allora ragazzi nel 2021 ancora siamo costretti a vedere video come quella storia commesso poco fa dove in tanti mi avete scritto mi avete detto bravo che ti esprimi su questo su questo argomento ma è normale che mi esprimi su questo argomento mi riferisco alla storia di quei due ragazzi omosessuali che si baciano sul treno la metropolitana e quell'imbecille va lì e va addirittura a picchiarli nel 2021 secondo me è una cosa improponibile impensabile e come fighter mi sento di mettere in ballo e tirare fuori questo argomento ma senza fare challenge e video stupidi dove la gente si ritrova a fare queste challenge nomino quello nomino quell'altro e poi alla fine non sanno manco di quello che stanno parlando secondo me anche il mondo del fighting quindi la mascolinità vera noi siamo i maschi alfa per eccellenza quindi i pugili stiamo all'interno di un ring all'interno della gabbia ci picchiamo e tutto quanto quindi siamo visti come l'uomo no tutte cazzate quindi secondo me è anche importante che la nostra categoria quindi mi piacerebbe vedere anche i miei colleghi che si esprimessero e sensibilizzassero di più la gente su questo argomento purtroppo non vedo quasi nessuno dei miei colleghi che fa che fa questa cosa quindi la faccio io faccio questo video e quindi volevo dimostrare tutto il mio supporto al mondo omosessuale non c'è penso sia manco mamma mi viene in assurdità pure a doverlo descrivere ti piace un uomo ti piace un uomo basta qual è il problema piace la donna ti piace la donna c'è addirittura gente e siamo costretti a vedere ancora questi video quindi come già detto scatizzi supporta gli omosessuali e assolutamente va contro e come ho detto nella storia perché non succede mai quando ci sto io per fortuna che non ci succedono queste cose quando ci sto io perché la violenza genera solo altra violenza però io potrei farmi mettere in galera per un qualcosa del genere per una violenza gratuita su un ragazzo perché si bacia col fidanzato addirittura quello va attraversare i binari una follia impensabile comunque detto questo mi piacerebbe vedere più più uomini veri che voi vi considerate uomini veri del mondo del fighting esprimersi su questo argomento perché penso che sia importante che tutte le persone che seguono noi fighter quindi mma pugilato muay thai quello che è e soprattutto i ragazzi giovani devono sapere che anche noi siamo siamo pro omosessuali ognuno può 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 amare andare stare con chi con chi vuole senza dover essere discriminato quindi mi raccomando ragazzi scatizzi se vi becca fa una cosa del genere su botte no scherzo però mi raccomando spero di non vedere mai più video e cose del genere anche se la vedo dura